Benvenuti qui a New Manu Adams Oggi faremo... non faremo... Vi far... vi... Vi... dico che oggi qui... Forse l'avete visto al cinema Che si chiama Maga Martina e il libro magico del draghetto Questo qui Adesso vi leggo una pagina, una paginetta Ehm... aspettate che vi leggo la prima pagina Anzi no, la seconda Aspettate che scelgo la pagina, anzi Eccola qui La parte più divertente Ritrova subito il coraggio Mette le mani sui fianchi La mia camera La tua camera È mio il libro E devo tenerlo d'occhio Spiega Ettore E si batte il petto Martina pre... prede... fiato Prende fiato, scusate E dice... decide... decide... scusate Di non... farsi... intimidire... da tutte quelle... str... stranezze Pia nel... Pia nel... E faccio... E dimenticare Grazie.